Sto per mangiare la pizza in Bolivia e per di più con l'impasto di quinoa Ordinerò la visuglio, salsa di pomodoro, formaggio, mozzarella e prosciutto Costerà 80 bolivianos 10 euro più che è piuttosto cara C'è una pizza che si chiama Lazio Abbiamo un romanista che prende la pizza Lazio? Assolutamente no Mi preme sottolineare che c'è un'africana che contiene l'ananas, la banana e il curry La cucina non è molto invitante ed è a vista Il forno è elettrico Però le pagnotelle di pizza stuzzicano l'appetito Eccola Un momento assaggio L'impasto c'è Adesso vediamo il gusto Provata È buona La quinoa non si sente Può avermi fatto tranquillamente la supercazza di mettere la panina normale Voto Considerando che siamo all'estero In Bolivia Mi do un belotto